Il reparto territoriale dei Carabinieri di Gela si arricchisce di due nuovi ufficiali. Si tratta del tenente Michele Cerri, 27 anni, nativo di Livorno, e del tenente Matteo Calcagnile, 25 anni, di Roma. Il primo comanderà la sezione radiomobile, prendendo il posto dal tenente Francesco Ferrante, promosso al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile. Calcagnile dirigerà la sezione operativa. Cerri è stato impegnato negli ultimi anni in diverse manifestazioni, dall'Expo alla Val di Susa. Calcagnile, invece, ha prestato lo suo impegno al XIII Reggimento Friuli-Venezia-Giulia. Per i due ufficiali si tratta della prima esperienza in un reparto territoriale. La realtà gelese offre sicuramente margini per migliorare come uomo e come ufficiale carabinieri. Arriva da Livorno, dove insiste uno stabilimento Eni, altrettanto trova Gela. Questa dell'Eni sicuramente è un banco di prova per noi come reparto, perché dobbiamo mantenere con cui si avvicinanza alla popolazione, ma allo stesso tempo garantire la sicurezza all'impianto stesso dell'Eni. Quando ho saputo che sarebbe arrivato in città, qual è stato il suo primo pensiero? Il mio primo pensiero è stato subito quello di dovermi confrontare con delle attività con cui finora non mi ero mai cimentato praticamente, ma solo teoricamente durante il nostro corso di studio. E sapevo che avrei da subito dovuto mettere molto impegno per entrare subito nel territorio e in tutte le dinamiche che ci sono a Gela. Quindi conoscere subito i personaggi principali, quindi quelli su cui puoi poter lavorare. L'esigenza che in questo momento sta imperversando nel territorio riguarda più che altro attività di estorsioni e spazio di sostanze stupefacenti. A fare gli onori di casa questa mattina la presentazione dei due nuovi ufficiali, il Maggiore Valerio Marra. Due nuovi ufficiali giunti, fortemente preparati e motivati, che sono stati destinati qui a Gela dal nostro Comandante Generale. A testimonianza dell'attenzione che il vertice dell'arma riserve in una città così importante come questa. Speriamo che con la loro motivazione e con la loro preparazione, frutto di cinque anni di percorso formativo tra la scuola ufficiale i carabinieri e naturalmente il periodo trascorso in Accademia Militare a Modena, possano naturalmente dare la giusta preparazione, ma soprattutto la giusta guida, il giusto stimolo ai nostri carabinieri impegnati sia nell'attività di controllo del territorio che nell'attività investigativa. Il tenente Francesco Ferrante è neocomandante del Nucleo Operativo e Radiomobile che ha preso il posto dal capitano Gianmarco Messina, trasferito a Catania. Dopo 20 mesi di comando della sezione radiomobile del reparto territoriale, quindi dell'aliquota dedicata al pronto intervento, ho assunto da qualche giorno il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile, quindi la responsabilità di entrambe le articolazioni del reparto, l'una che si occupa del pronto intervento e l'altra che si occupa più specificamente della Polizia Giudiziaria.